e si vince non ha mancato niente non ha mancato x stanno facendo vedere il trio guarda ragazzi il trio il trio ma vedete come l'ho alzato ragazzo l'ho alzato al cielo proprio è a posto no io non metto stati non metto niente no vedi spunta anche 6-4 minuti la prossima partita lo stesso io mi salvo la clip